Un buongiorno a tutti, bentornati, episodio numero 13 del corso di Java. Quest'oggi vediamo il ciclo while e in realtà anche il ciclo do while. Quindi vedremo che cos'è un ciclo, a cosa serve un ciclo, appunto poi il ciclo while e do while. Allora, il ciclo possiamo definirlo come un blocco di codice, ok, esattamente come if, ok, abbiamo visto quello come blocco di codice, che ci permette di ripetere all'infinito potenzialmente una porzione di codice finché lo vogliamo noi, ok? Potrebbe essere letteralmente mandare a schermo system.out println con scritto ciao quante volte vogliamo, oppure potrebbe essere fare questo, piuttosto che più avanti scrivere sul database, piuttosto che fare altre cose a livello grafico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi possiamo avere da una riga di codice a infinite righe di codice da ripetere una barra infinite volte o anche zero barra infinite volte in base ad una condizione che andiamo a mettere, ok? Quindi la cosa bella dei cicli è che ci permette di sostituire processi che sarebbero lunghi da fare a mano e anche forse impossibili, visto che a volte noi non sappiamo quante volte dobbiamo ripetere le cose, ok? Per esempio, pensate se dovessimo ripetere per tutti gli utenti sul nostro sito, ok? Però è una cosa dinamica, gli utenti vanno, vengono, qualcuno si disiscrive, qualcuno si iscrive, anche ci può essere qualcuno che ogni volta che c'è un nuovo iscritto va a modificare il codice. Esempio, vi faccio un esempio qua, potremmo avere ciao più, pensate che il nome sia dinamico, no? Fate finta che abbiamo 50 utenti, cosa facciamo? Le vogliamo salutare tutti. Ciao Luca, ciao Marco, una cosa del genere, andiamo avanti all'infinito e lo facciamo a mano per ogni persona che si iscrive. Tendenzialmente avremo il nostro ciclo, ok? Con ciao più eventualmente nome, una cosa così. Quindi abbiamo in modo dinamico ciò che vogliamo fare, ok? Però la porzione di codice, che può essere una riga o più righe, vengono eseguite uguali per il tot numero di volte. Va bene, spero di essermi spiegato, in realtà lo vedremo meglio con, appunto, con il ciclo. Quindi, che cos'è un ciclo? Dicevo, una porzione di codice che ci permette di eseguire più volte una o più istruzioni, ok? E a cosa serve? Ci permette di evitare di dover farlo noi a mano, anche perché sarebbe impossibile a volte sapere quante volte dobbiamo farlo. Quindi diciamo, guarda, c'è questa condizione, finché questa condizione è vera, la esegui. Un esempio potrebbe essere, finché vedi che ci sono persone in fila, facciamo questo esempio. Finché ci sono persone in fila al bancone, le servi. Quindi, salve, buongiorno, di cosa ha bisogno? Ah, ok, questo va bene. Salve, buongiorno, di cosa ha bisogno? Finché ci sono persone in fila, ok? Quando smettono di esserci persone in fila, potremmo considerarlo, e ho finito la mia giornata di lavoro, chiudo baracche e burattine e ci vediamo domani per aprire il mio chiosco di panini. Potrebbe essere una cosa del genere. Quindi, andiamo a vedere come si scrive il ciclo while. Innanzitutto, dobbiamo andare a creare una variabile che faccia da iteratore. Quindi i, facciamo uguale 0. Solitamente si parte da 0. Che cos'è i? I sarebbe per iterator, che sarebbe iteratore, che deriva da iter. Avete presente quando si dice, eh, questo è l'iter da fare, è l'iter da seguire. L'iter è il processo, ok? Che prevede una serie di step, ok? Questo qua sarebbe il contatore dello step. Step 1, servo questa persona, servo a questa persona il mio panino. Step 2, saluto la prossima persona. Salve, buongiorno, mi dica, ha bisogno di un panino? Ok, glielo faccio, glielo consegno, salve, buona giornata. Step 3, sì, buongiorno, benvenuto, benvenuto alla McDonald's. Che panino vuole? Ah, ok, vuole questo. Perfetto, glielo do, ok, salve, buona giornata. Step 4, salve, buongiorno, e via discorrendo, va bene? Quindi i, internazionalmente è i, che sta per iteratore, si utilizza appunto per contare gli step del nostro ciclo. Poi abbiamo while, while vuol dire mentre. Quindi mentre la condizione che abbiamo qua dentro è verificata, mi fai qualcosa. In questo caso andiamo a fare, fin tanto che i è minore di 5, va bene? Che cosa facciamo? Facciamo system.out.println e noi mandiamo a schermo i. Molto semplicemente. Niente di complesso. E poi dobbiamo fare un'altra cosa che poi vi spiego, che è i++. E ve l'ho spiegato, i++, quindi incremento, ok? Quindi andiamo a incrementare ogni volta while. Vediamo qual è il risultato, ve lo faccio vedere. Vedete? 0, 1, 2, 3, 4. Che cos'è successo? Allora, abbiamo definito la nostra i, che parte a contare da 0, ok? Nessun problema. E diciamo, finché i è minore di 5, mi mandi a schermo i, ok? Una volta che l'hai fatto, hai finito il primo step, fai più più, in modo da poter andare avanti, ok? Perché se noi non mettessimo questo, sarebbe sempre 0, ok? Di conseguenza manderebbe 0 all'infinito e non uscirebbe mai dal ciclo. Quindi, facciamo l'esempio pratico. i uguale a 0, mentre i, anzi, non definiamo, non facciamo mentre i è minore di 5. i è minore di 5, quindi 0 è minore di 5, sì, mandi a schermo 0. Eccolo qua. L'ho finito, l'ho finito una volta, andiamo avanti, quindi 1. 1 è minore di 5, sì, quindi mandiamo a schermo 1, eccolo qua sotto, e me lo incrementi a 2. 2 è minore di 5, assolutamente sì, quindi mi mandi a schermo 2, me lo incrementi a 3, e torniamo su. 3 è minore di 5, certo, quindi mi mandi a schermo 3, lo incrementi a 4. 4 è minore di 5, sì, quindi mi mandi a schermo 4, e me lo incrementi a 5. 5 è minore di 5? No, finisco e vado avanti. Infatti avete visto che arriva solo fino a 4. Quindi, quali sono le componenti essenziali di questo while? Sono il contatore qua in alto, ok? La condizione che si deve verificare, e poi l'incremento, va bene? Poi quello che noi vogliamo fare qua dentro sono altre cose, va bene? Sono altre cose. Però avete visto come siamo riusciti a prendere la nostra riga di codice e ripeterla autonomamente, senza che noi dobbiamo sapere, vabbè, qua abbiamo messo 5, effettivamente, ok? Dobbiamo sapere che è 5. Però magari noi possiamo partire dal fatto che per assurdo i potrebbe essere 3, quindi. E noi non lo sappiamo perché è una cosa che magari capita a runtime, no? Capita mentre il programma sta andando, anziché essere 0, i diventa 3. E quindi questo qua verrà solo eseguito due volte. E a noi non interessa questa cosa. Perché la cosa bella del ciclo è che ci permette di non occuparci di queste cose. Noi poniamo dei limiti. Finché i è, ad esempio, minore di dot, che potrebbe essere anche una cosa dinamica, di cui noi non ci occupiamo, va bene? Finché è minore di, o uguale a, insomma, quello che volete, quello che può essere la condizione, mi ripeti questa cosa. Io non mi occupo di altro. L'unica cosa che noi andiamo a fare è sistemare i, sistemare la condizione, ovviamente mettere l'incremento, ma poi mettiamo il nostro codice. E automaticamente, finché, o anzi, mentre questa condizione è verificata, lui continuerà a ripetere il codice. Molto, molto semplice. Ora andiamo avanti e vediamo il do while. Vediamo il do while. Allora, do while è al contrario. Quindi mentre qua eseguiamo solo se la condizione è verificata, do while è diverso perché ci permette di eseguire la condizione prima. Qualcuno potrebbe dire, non sto capendo, non preoccupatevi. Commentiamo. Andiamo qua sotto e facciamo do. Vado qua. Printiamo questo. Eccoci qua. Mettiamo il nostro i più più. Quindi facciamo così. Tac. E poi qua ci mettiamo while. Apriamo i minore di 5. Che cosa succede a sto giro? Ve lo faccio vedere. Il risultato è lo stesso, ok? Quindi sembra uguale, sembra non ci sia differenza. Ma la differenza è abissale, ovvero viene eseguito prima la riga di codice e poi viene verificata la condizione. Va bene? Per farvi capire meglio voglio farvi vedere questo e questo qua insieme. Quindi andiamo a fare così e facciamo più i e qua scriviamo do while e mettiamo a capo, ok? Mettiamo uno spazio, poi qua togliamo il commento e andiamo a scrivere qua semplicemente while. Quindi facciamo così, mettiamo il più, qua mettiamo while con lo spazio. Una cosa che voglio fare è mettere qua, vedete, i minore di 0 e qua i minore di 0. Allora, mandiamo a schermo. Vedete che abbiamo solo do while 0. Perché questa cosa? Vediamo entrambi i cicli. Allora, abbiamo i uguale 0, giusto? I è minore di 0? No, perché 0 è uguale a 0, non è minore di 0. Quindi non faccio niente. Va bene? Perfetto. Arrivo al do. Scendo. Fai. Cosa devo fare? Devo mandare a schermo do while più i. I è 0. La incremento. 1. E cosa succede? 1 è minore di 0? No, perché è maggiore di 0. Capite che cos'è successo? Che qui, nel while, la condizione viene verificata prima. Ok? Tu puoi entrare? No. E allora non entri. Mentre qua, invece, tu entri, fai quello che devi fare, poi il while ti scopre e ti butta fuori. Immaginatevi se sono due persone diverse che entrano ad una festa, ok? Il primo arriva e la persona gli chiede, ma tu puoi entrare? Quindi, i, minore di 0? No, non posso entrare, non sono in lista. Benissimo. Allora stai fuori. Non entra nemmeno a fare il suo codice. Mentre invece questo, arriva alla festa, entra di sgamo in qualche modo, si prende il suo drink do while uguale 0, va bene. C'è stato l'incremento, lo beccano e gli fanno, ma tu sei sulla lista? No, e allora ti butto fuori, però io sono già entrato alla festa, mi sono già divertito e mi hanno buttato fuori dopo, va bene? Quindi il do while ci permette di eseguire almeno una volta la nostra riga di codice, ok? Anche se la condizione non è verificata, perché la condizione viene verificata dopo. Quindi possiamo avere situazioni in cui noi vogliamo, a prescindere, eseguire almeno una volta il nostro codice, ok? Anche se la condizione non è verificata. Tu fallo almeno una volta, se poi non è verificata, pazienza. Mentre qua invece vogliamo entrare solo se la condizione è verificata. Questa è fondamentalmente la differenza tra while ed while. Potrebbe volerci un po', per capirlo, non preoccupatevi, potrebbero volerci soprattutto un po' di esempi, dovete prenderci la mano. Sicuramente cominciate a imparare la sintassi, che è fondamentale, ok? Imparate almeno quella che è fondamentale, sugli utilizzi poi verranno da sé. Alla fine la programmazione si impara, non credo si impari tanto. Cioè con questi video imparate cosa vuol dire, perché usiamo certe cose, eccetera, eccetera. Ma la differenza quando usare uno e quando usare l'altro, poi la vedremo anche col ciclo for, quella viene quando programmate, quando vi farete i vostri programmini, la prima calcolatrice, quando vi farete una piccola to-do list, quando vi farete cose del genere, allora lì sì che il vostro cervello, ok, mi conviene usare questo o quello. E all'inizio va bene usare, beh, forse il do while no, però magari lo vedremo la differenza tra while e ford, vabbè, non c'è differenza, capite? All'inizio sarà un po' così, ma va bene, dovete solo metterci su esperienza. Poi sarà l'esperienza, saranno i progetti che vi diranno, ok, meglio questo, meglio quest'altro, eccetera. Non sbatteteci la testa al momento, non serve a niente. Ci sono tanti principianti che mi fanno tantissime domande, ah, ma quindi se faccio così, così, cos'ha, eccetera. Impara ad usarli, impara la sintassi, impara per ora ad usarli, poi sarà l'esperienza che ti dirà cosa fare e cosa non fare. Bisogna solo mettere su ore e ore e ore e ore di programmazione. È l'unica soluzione. Quindi direi che per oggi abbiamo finito, noi ci vediamo appunto nel prossimo video dove parleremo del ciclo 4, ok, altro ciclo fondamentale. Vi ringrazio per essere rimasti con me, sotto in descrizione trovate tutto quello che serve per supportare il canale se ci tenete particolarmente e entrare nella community. Un abbraccio e alla prossima. Ciao ciao!